Saluti a tutti voi e benvenuti al nostro canale. Dalla Spagna arrivano le emozionanti anticipazioni. Per le prossime puntate della serie, la promessa. Preparatevi, perché l'intreccio narrativo, è in procinto di decollare e tra le sfide che attendono i protagonisti. Una in particolare getterà nell'inceftezza, una delle figure centrali, spingendola verso l'ignoto con la speranza di trovare una fuga dalla tortura. La nostra adorata Jana si troverà ad affrontare una dolorosa verità, la perdita irrimediabile di Manuel. Questo cuore spezzato dovrà confrontarsi con la crudele realtà di un amore che sembrava impossibile. Nonostante lotti per domare le emozioni contrastanti, che la travolgono, la vita non si ferma, e le riserva una nuova e inaspettata sfida. Un lavoro gravoso e spossante le verrà assegnato un compito insidioso, proposto come forma di vendetta. Mentre le lacrime versate per Manuel, non si sono ancora asciugate, Jana si troverà immersa in un vortice di responsabilità e fatiche senza fine. Tuttavia, non è solo il peso del lavoro, che minaccerà la sua tranquillità. Un ostacolo imponente, si ergerà davanti a lei. Una minaccia che potrebbe mettere a rischio, la sua stessa vita. In questo intricato gioco degli eventi, la causa di tale pericolo sembra riconducibile a Jimena, una figura enigmatica, capace di tessere trame malvagie. Ma sorge una domanda inevitabile. Questa volta le sue malefatte si rivolteranno contro di lei? In un vortice di suspense e tensione, ci troveremo a interrogarci sul destino di Jana. Riuscirà a superare l'ostacolo titanico che le si para davanti? Il suo spirito, seppur messo a dura prova, dimostrerà di poter affrontare le avversità, e riemergere ancor più forte. Nel cuore di questa narrazione intricata e mozzafiato, l'incertezza danza insieme alla speranza. Prepariamoci quindi a immergerci nell'incanto travolgente, della promessa, dove passioni, sfide e avventure si fondono in un vortice coinvolgente. Rimaniamo sintonizzati, per scoprire quale sarà il destino di Jana e degli altri protagonisti, pronti a tuffarci in un mondo di emozioni e colpi di scena durante gli avvincenti episodi, che si svolgono in terra spagnola. L'evoluzione del personaggio di Jimena, ci regalerà una sorprendente sequenza di emozioni negative, e problemi, crescendo e gettando l'ombra delle sue malefatte sulla vita di Jana. Quella che un tempo era una figura mite si trasformerà in un vortice di negatività, che minaccia di inghiottire il tranquillo mondo, che circonda i protagonisti. Il suo obiettivo ossessivo è chiaro, conquistare il cuore di Manuel, colui che ora occupa un posto speciale nel suo cuore. L'innamoramento di Jimena per Manuel, è cresciuto a tal punto da diventare una fiamma ardente, una passione che sembra consumare ogni altra priorità. Questa passione distorta, la spinge a perseguire Manuel con una determinazione sempre più spietata. Questo sentimento è anche supportato dai marchesi, i quali credono che il matrimonio tra Jimena e Manuel possa risolvere le difficoltà finanziarie che gravano sulla loro famiglia. Per loro, questa unione rappresenta un ancora di salvezza, un faro di speranza in mezzo alla tempesta economica che stanno affrontando. Tuttavia, la realtà è molto diversa da ciò che Jimena, la protagonista, crede di vedere. L'ossessione di Jimena distorce la sua visione della realtà. Solo in un momento di osservazione furtiva, quando si nasconde nell'ombra per scrutare la coppia, si rende conto che Manuel, ha occhi solo per Jana. La sua attenzione è catturata da lei in un modo che non accade con nessun altro. Questa rivelazione lacerante penetra nel suo cuore, come un pugnale affilato, gettando nuova luce su una realtà che lei rifiuta di accettare. L'entrata di Jana nella sfera di interesse di Manuel rappresenta una sorpresa sconcertante per Jimena. Secondo Jimena, Jana ha aggravato la situazione riparando l'aereo di Manuel, sperando che lui, potesse recuperare la sua memoria perduta. Tuttavia, questa possibilità è vista come una minaccia tremenda, dalla furibonda Jimena, poiché metterebbe a serio rischio, i suoi piani di matrimonio. Mentre Jimena si tuffa nell'abisso della sua ossessione, si delinea una trama intricata di rivalità e conflitti. La figura di Jimena si trasforma in un vortice di inganni e manipolazioni, mentre cerca disperatamente di allontanare Jana e sbarazzarsi della sua rivale. La sua mente fervida da vita ha un piano, che promette di cambiare il corso degli eventi. Abbalendosi delle sue abilità nell'arte dell'inganno, Jimena si avvicina a Jana e le comunica che un trasferimento è in serbo per lei. Jimena inventa una storia convincente. La famiglia sta preparando un'accoglienza, per influenti personalità europee, e hanno bisogno di rinforzi nel personale per presentarsi al meglio. Jana, ignara delle reali intenzioni di Jimena, accetta il trasferimento senza esitazione. La sua dedizione nei confronti della famiglia Luyan, e la sua natura gentile e premurosa, la spingono ad intraprendere il nuovo incarico con fiducia. Si applica diligentemente, rispettando gli ordini di Jimena, dimostrando ancora una volta, il suo spirito collaborativo. Tutto sembra procedere secondo i piani di Jimena. Tuttavia, nelle pieghe dell'inganno si nasconde un colpo di scena, che cambierà le sorti di Jana in modi inaspettati. Mentre Jana si impegna nella nuova tenuta, le sfide che la attendono, sono molto diverse da quanto aveva immaginato. Il suo ruolo di domestica, viene stravolto. Invece delle mansioni abituali, Jana è costretta, a un lavoro estenuante nei campi. Le lunghe ore di lavoro sotto il sole cocente, e le attività faticose, mettono a dura prova sia il suo corpo, che la sua mente. Jana inizia così un'esperienza completamente nuova, lontana dalla sua comfort zone. I giorni si susseguono in una routine estenuante, e la sua salute fisica e mentale ne risente in modo significativo. L'immagine di Jana, una volta vivace ed energica, appare ora come un'ombra di se stessa. La sua salute compromessa, e il suo stato emotivo fragile, sono evidenti a tutti coloro che la conoscono. L'effetto devastante delle sue nuove mansioni, è sotto gli occhi di tutti, gettando una luce sinistra sulla manipolazione di Jimena, e sulle conseguenze che ha avuto sulla vita di Jana. Mentre la storia si snoda, in un susseguirsi di eventi sconcertanti, il destino di Jana pende in bilico, come un fragile equilibrio tra scelte altrui, e prove insormontabili. Il suo cuore è gravato da un peso immenso, e la sua determinazione si sta indebolendo. Dovrà affrontare un'oscura fase della sua vita con determinazione, e cercare la forza di risorgere. La protagonista di questa vicenda, Jimena, emerge dalle ombre dell'ingiustizia e dell'esaurimento. Il suo corpo è ormai un mosaico di lividi, segni indelebili provocati dalla fatica implacabile nei campi. La pesantezza delle giornate di lavoro, ha lasciato tracce tangibili sulla sua pelle, evidenziando la lotta quotidiana che affronta. Ogni passo, ogni movimento, emana stanchezza e dolore, svelando un confine fragile tra resistenza e cedimento. La Jimena che un tempo conoscevamo, energica e vivace, è svanita, lasciando dietro di sé solo l'ombra di ciò che era. Il protagonista maschile, Manuel, non riesce a restare insensibile di fronte a questa sofferenza. Anche se la sua memoria è un labirinto di frammenti, l'empatia e la preoccupazione per Jana sembrano radicate in lui. La sua connessione emotiva con lei supera qualsiasi altro ostacolo mentale. Guidato da questo legame e deciso a farla stare meglio, Manuel prende una decisione audace. Affrontare il rischio di irritare la sua fidanzata, ma garantire a Jana l'attenzione e l'aiuto di cui ha bisogno. Manuel si avvicina a Jana con gentilezza, desideroso di capire cosa le sia successo. Le parole di Jana fanno emergere le tracce, della sua lotta contro le difficoltà e il malessere, anche se non svelano l'inganno orchestrato da Jimena. Manuel è mosso dalla compassione e dal desiderio di alleviare il peso del lavoro, logorante che Jana sta subendo. Tuttavia, i giorni che seguono non portano miglioramenti. Al contrario, la salute di Jana inizia a deteriorarsi in modo drammatico. Le sfide del suo nuovo ruolo si intensificano, e la giovane donna si ritrova ad affrontare un altro capitolo di sofferenza. Vertigini debilitanti si fanno strada nella sua realtà, minando la sua capacità di stare in piedi. La sua salute, già compromessa, raggiunge un punto critico, lasciando un'impronta indelebile su di lei. Manuel osserva impotente il declino di Jana, e il suo cuore è logorato dall'ansia. In un gesto audace, si rivolge alla famiglia, cercando conforto e risposte. Sarà la sorella di Manuel, Catalina, a svelare una verità sconvolgente. L'inganno orchestrato da Jimena, è stato la causa di tutto. La freddezza delle parole di Catalina, getta luce su una macchinazione tanto crudele quanto inaspettata. La responsabilità del tormento di Jana, ricade sulle spalle di Jimena, che ha dato ordine di maltrattarla come punizione per la riparazione dell'aereo. Questa rivelazione scuote Manuel in profondità, svelando un lato oscuro di Jimena, che lui non avrebbe mai potuto immaginare. Il suo cuore è spezzato dall'inganno e dalla manipolazione, che una volta pensava fossero lontane da lei. Mentre gli eventi si snodano, l'attenzione crescente di Manuel per Jana non passa inosservata. La sua dedizione e i suoi sentimenti suscitano preoccupazione e ansia, tra coloro che li circondano. Il futuro di tutti è ora appeso a un filo sottile, e la trama si dipana rivelando fragilità e tensioni che minacciano di sconvolgere il destino dei personaggi coinvolti. Con queste premesse, vi chiediamo, quale sarà l'evoluzione di questa storia affascinante? Le scelte sbagliate di Jimena, avranno delle conseguenze? E Manuel, finalmente, riuscirà a vedere chi è davvero la donna accanto a lui? Le risposte sono avvolte nell'incertezza, e il destino di Jana è ancora avvolto nell'ombra. Vi invitiamo, a condividere le vostre opinioni nei commenti, perché la vostra voce, è parte integrante di questa narrazione coinvolgente. E se vi è piaciuta questa anteprima, non dimenticate di mettere mi piace, e iscrivervi al canale, per non perdere nemmeno un dettaglio della trama avvincente, che sta per svelarsi. Grazie per l'attenzione e a presto.